E di due persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 sulla strada statale 170 Andrea Barletta nel territorio della città federiciana. Due anche i mezzi coinvolti, una Ford di colore scuro guidata da un 45enne andriese ed un furgone condotto da un settantenne sempre di Andrea. I mezzi viaggiavano in direzione Barletta quando per cause ancora in corso di accertamento sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in codice rosso negli ospedali Bonomo e di Miccoli. Con i sanitari hanno raggiunto il luogo dello scontro anche gli agenti della Polizia Municipale di Andrea che hanno effettuato i primi rilievi. Il traffico, rimasto bloccato per diversi minuti sino alla rimozione dei veicoli incidentati, è stato deviato sulla complanare.